Davvero non so come andrà a finire. Credo che uno di noi due dovrà morire. Questa donna la sta stalkerando? Sì, sei mesi più o meno. Perché ci ha messo così tanto a denunciarla? Credo che le serva aiuto. Viene dove lavoro? Viene a casa mia. Mi invia delle email, direi, quasi continuamente. Poche minaccia nei suoi confronti? Sì. Non direi che è particolarmente minaccioso. C'è un motivo, se non l'allontani, per quello che ti dà. Hai delle mani molto virilli, lo sai, vero? La mascella squadrata. Potremmo scappare insieme. Così sei un comico? Più o meno. Non sta andando bene. Scusa, è una domanda? Qualcuno ti ha ferito. Ma davvero? Chi è stato? Marta, puoi lasciare andare la mia mano? Marta, ti prego, lasciami. Come hai osato? Date il bevango sul balco al prossimo artista! Donnita! Sono davvero preoccupato. Non vuoi lasciare che ci influenzi così. Piccola renda! Non è lei che ci influenza, sei tu. Mi manchi. Signore e signori, questa è Marta, la mia stalker. Salutate Marta. Non è assaltarti a chiamarmi così, prendendo le tue scuse immediatamente. È meglio che mia madre stia a casa. Fai schifo. Tu l'hai assecondata. Non ti prego. Io credo che ti piaccia. Senti Marta, tornatene a casa. Ho la sensazione che tu potresti essere la mia rovina.